Le amiche di Ade Gabri del baule della nonna. Oggi andiamo a fare un progetto a dir poco stupendo, un centrotavola facilissimo, velocissimo, con una candela centralmente. Andremo a fare ad uncinetto un portacandele, centrotavola. Allora, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Vabbè che adesso ci sono state le ricorrenze dei santi, dei morti eccetera, però vi siete scordate di me, non avete guardato i miei tutorial. E allora, mi raccomando, iscrivetevi, fatemi la pubblicità. Mettete mi piace, condividete. Mi raccomando, iniziamo con un cerchio di 6 catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. L'uncinetto è un tre e mezzo. Sto usando un cotone, un cotone, c'è questo cotone grigio, ho detto, tiè, che lo tengo a famo, ci facciamo questi centri tavola. Questa è un numero cinque e un lurex messo a tutto. Chiudiamo in cerchio il nostro cerchietto. E qui dentro noi ci andiamo a fare otto punti bassi. E uno, e due, e tre. Quattro, avete capito, otto. Chiudiamo in cerchio con un mezzo punto basso. E a questo punto, io qui l'ho preso male. Cominciamo a fare uno, due, tre catenelle, simboleggia un punto alto, su ogni punto basso sottostante due punti alti. Perciò, da otto andremo a finire a sedici. Su ogni catenella, due punti alti. Allora, io adesso vado velocetta, perché poi se no voi vi annoiate. Ecco qui, ok? Due per ogni punto basso e da otto noi andiamo a finire a sedici. Chiudiamo il giro e andiamo poi sul prossimo. Terzo giro, uno, due, tre. Di nuovo, sempre due punti alti su ogni punto alto sottostante. Perciò, vengono fuori trentadue punti alti. Due per ogni punto alto sottostante. Trentadue, perciò otto, sedici. Uno e uno, due. Ok, vado. Allora, ragazze, contiamoli sempre, eh? Qui dove devono riportare trentadue, ok? Uno, vedete? Trentadue, io già l'ho contato, ok? Prossimo giro. Doppiamo. E quell'altro, no. Uno, sì, doppio. E uno, no. Uno, sì. E qui vi devono riportare Quarantotto maglie alte. Quarantotto. Aspettate che lo scrivo su un foglietto E poi ve lo metto qui. Eccolo qui, ragazze. Ve lo metto qui di lato. Cinque catenelle di inizio. Otto punti bassi. Si raddoppiano a sedici. Poi trentadue punti alti. E adesso andiamo a fare i nostri quarantotto. Perché me li so segnati pure io, raga, eh? Non è che... Allora, due, uno. Due, sì. Così il cerchio vi riporta alla perfezione, ma non è tanto per il cerchio, è per il lavoro che poi andremo a fare successivamente. Va bene, carissime? Con calma io adesso vado a finire i miei 48 punti alti. Mica tanto con calma. Veloci, 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 veloci. Dai, 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 dai. Chi vuole rallentare la mia mano, la riallenta, la allenta. C'è una modalità sul telefonino dove possiamo rallentare, va bene? Oppure velocizzare. A parte che velocizzavo, voi prendete il dito, scorrete il video avanti o indietro. Mettiamo a posto questo. Ok, vado. Ecco qui, io l'ho contato e sono 48. Adesso andiamo a fare un punto alto sulle nostre 48 maglie alte. Le contiamo, se non le contiamo, la fine. Perché ci possiamo sbagliare senza crescere, senza aumentare, senza niente. Adesso vi faccio vedere che noi stiamo facendo il piano, diciamo, per mettere la nostra candela. Adesso la prendo, la faccio vedere. Eccola qui, la vedete? Guardate. In questo modo, questa è la candela, una circonferenza di... Di, 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 che trovo il centimetro. Ha una circonferenza di 21 centimetri ed è alta 10 all'incirca. Allora, vedete? Io il piano l'ho fatto piuttosto larghetto. Perché? Perché noi possiamo prendere anche delle candele più larghe. Va bene? Il giro che sto facendo adesso, questo qui, è quello che mi servirà per creare queste punte per dare una certa importanza al nostro portacandele come, come centrotavola, no? Ok? Allora, noi possiamo giocare, perché poi ci dovremmo fare una lavorazione di alzata di punti qui, no? Possiamo giocare con la larghezza per altri, non so, fino, penso a, a 35, 40, la larghezza della candela, ok? Per questo filato è lavorato con il tre e mezzo, ok? Adesso finisco e poi vi mostro. Queste 48 maglie alte che abbiamo fatto sono l'ideale per creare 8 punte per decorare questo centrotavola, ok? Adesso andiamo a fare l'ultimo, no, il penultimo giro e sono 3 catenelle che simboleggiano il punto alto anzi, 4, perché adesso andremo a lavorare con i punti alti doppi più 6 catenelle perciò 4, un punto alto doppio, più 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Prendiamo due volte il filo e sullo stesso punto facciamo il punto alto doppio eccolo qui poi 3 catenelle 3 catenelle lasciamo un punto qui, vedete? e andiamo su quest'altro 1 2 e 3 punti bassi 3 catenelle 1 2 3 prendiamo e facciamo il punto alto doppio lasciamo un punto di base e andiamo su questo e facciamo il nostro punto alto doppio 6 catenelle 6 catenelle 2 3 4 5 6 prendiamo due volte e sullo stesso punto andiamo a fare un punto alto doppio 3 catenelle 1 lasciamo un punto di base 3 punti bassi e 1 e 2 e 3 3 catenelle 3 catenelle prendiamo due volte lasciamo un punto di base andiamo sul prossimo e lavoriamo il nostro punto alto doppio 1 2 3 4 5 6 prendiamo due volte e punto alto doppio 3 catenelle lasciamo un punto andiamo su questo e facciamo le nostre 3 maglie basse non ci sbagliamo io prima mi sono sbagliata l'ho dovuto guastare allora sono 1 2 3 3 punte noi dobbiamo arrivare ad 8 e vengono perfettamente con le maglie che noi abbiamo messo 1 2 3 lasciamo punto alto doppio 1 2 3 4 5 6 e andiamo sempre sullo stesso punto punto alto doppio chiudiamo 1 2 3 punti bassi 3 punti bassi e 1 e 2 e 3 fate in bove ce l'ho fatto dappertutto 3 3 4 3 4 non vi preoccupate perché adesso sembra che l'ultimo punto restringe un po' ma poi se vedete già si accomoda se noi ci mettevamo la catenella veniva troppo troppo lento brutto non andava bene allora stavamo sul 3 3 catenelle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 non ci sbagliamo farsi i punti bassi e 1 a scordarceli 2 e io ho fatto il prototipo l'ho guastato tantissime volte per farlo venire come dicevo io no 2 3 non ci sbagliare non ci sbagliare non ci sbagliare non ci sbagliare quante punte sono 1 2 1 2 3 4 5 6 adesso faccio la settima e l'ottava e poi vi faccio vedere ok qui vi voglio far vedere la chiusura sono le 3 maglie basse 3 catenelle 1 2 3 e andiamo di lato qui perché vedete e chiudiamo e contiamo ci sono le 8 punte 1 2 3 4 5 6 7 8 ok adesso andiamo sul prossimo giro state attente iniziamo 1 2 3 che simboleggiano un punto alto anzi facciamocene 4 va io faccio sempre 4 catenelle per un punto alto doppio invece molte fanno 3 e 2 con il punto alto normale e non è sbagliato anzi a volte 3 catenelle sono troppe per il punto alto normale ok qui facciamo un punto alto doppio l'abbiamo fatto perciò adesso andiamo a fare il secondo il terzo 3 punti al di doppio un pipiolino 1 2 3 e poi qui facciamo 3 punti alti tripli e 1 facciamo la punta 1 2 3 volte l'abbiamo ripreso chiudiamo e altri 2 stiamo facendo stiamo facendo la punta questo è l'ultimo giro è finito adesso dobbiamo vedete qua ci abbiamo fatti il pipiolino ma questa è la punta è la sommità ne dobbiamo fare 3 1 2 e 3 chiudiamo 1 2 3 chiudiamo 1 2 e 3 possiamo anche prenderlo qui in mezzo facciamo prima chiudiamo 3 pipiolini ricarichiamo con 3 volte e andiamo giù con 3 punti alti scusate scusate 3 punti alti tripli qua dovete stare attento ma è tanto e tutto di conseguenza no quello che abbiamo fatto di lato adesso lo facciamo dall'altro lato perché stiamo scendendo sono 2 tripli 3 tripli 1 2 e 3 divisi da un pippiolino 1 2 3 andiamo giù chiudiamo e adesso facciamo i nostri 3 punti alti doppi e 1 1 e 2 e 3 con mezz'ora ce la fate ragazzi a farlo 3 doppi 3 tripli 3 picco come lo dico la francese 3 tripi un picco 3 doppi picco 1 2 3 lo ricordate quando leggevamo la descrizione sui lavori artistici di mani di fata chi una volta chi te le faceva queste cose c'eravamo sta cervellà capì quello che volevano dire primo giro secondo vabbè e l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto per la passione che avevamo ok scusate per parlare adesso vedete abbiamo fatto la punta andiamo di lato scendendo con 3 punti alti e 1 e 2 e 3 andiamo sui nostri catenelle di lato e altri 3 punti alti chiudiamo bene qui in mezzo non lo lasciamo largo capite perché si deve stringere deve stringere deve svettare la punta e qui si deve stringere 1 e 2 e 3 dopo di che ricominciamo ricominciamo 3 catenelle facciamo un picco e poi qui carichiamo e facciamo le nostre 3 maglie alte doppie 1 e 2 e 3 un picco andiamo giù prendiamo qui in mezzo vedete facciamo prima e adesso carichiamo con 3 volte per i nostri 3 tripli e 1 e 2 aspettate aspettate mi devo comprare quell'aggeggio per far girare gira gira niente questo mi si è inciampato tutto guardiamo che è meglio allora 1 3 pippiolino i tre punti alti doppi 1 2 e 3 pippiolino 1 2 3 punto alto 1 2 e 3 catenella di lato 3 punti alti 1 2 e 3 adesso vi faccio vedere che meraviglia che sta venendo fuori eccolo qui controlliamo sempre che qua sono sbagliato qua sono sbagliato col chiacchiera chiacchierona della gabriella ci devo fare 3 pippiolini 1 qui 3 pippiolini ecco perché io riguardo sempre chiacchierona gabriella 1 1 2 3 concentriamoci 1 2 3 3 punti alti tripli tripli ecco a che serve riguardare perché uno si sbaglia dice ma come tu sbagli io sbaglio sbaglierò peggio peggio di voi perché il fatto che c'è il video davanti sbaglia ancora di più e allora adesso andiamo pippiolino con le nostre maglie alte doppie pippiolino punto alto e 1 e 2 3 ancora 3 punti alti stringiamo qui e 3 ecco adesso la cosa è diversa vedete le punte guardate adesso io proseguo da sola e vi faccio vedere finito cioè finito finito sto giro poi andiamo a creare come una sorta di alzatina per mettere la nostra candela vamos ok guardate ho fatto quattro punte eh guardate già che bello sto sto centro tavola vado eccolo qui sto finendo vi faccio vedere aiuto 1 2 e e ci attacchiamo ok tagliamo a questo punto noi prendiamo la nostra candela da piazzare guardate che meraviglia sta sto centro tavola e diciamo ecco qui questa è dove dove io devo andare a fare questa sorta di alzatina eh per mettere la mia candela ok allora qui io vado iniziando proprio dalle catenelle d'inizio eccolo qui piego l'uncinetto così e ci vado a fare tutti i punti alti taglio taglio qua ho dovuto mettere la ricarica sul telè nel senso non la ricarica di soldi perché sta allora mi dà pure fastidio ma sto va bene allora ecco qui e andiamo a ricreare questa sorta di alzata con i punti alti vedete prendiamo qui adesso io perché ho tutti questi fili che si inciampano tra di loro ma lo sto facendo piuttosto strettino non so se ve ne siete accorti in modo che non slabbra intorno alla candela piego vedete ok continuo tutto al giro poi vi faccio vedere e chiudiamo il giro io qui però ne vado a fare un altro adesso vi faccio vedere vedete abbiamo creato andrebbe bene pure uno però dai su mi sembra pochino un altro giro senza crescere senza diminuire senza niente in modo che la nostra alzatina si nota di più abbraccia di più la candela stringiamo quando facciamo i punti tra uno e un altro cerchiamo di stringere in modo che non sbrillenta vedete come tiro il primo giro è più difficoltoso stringerlo ma il secondo è più facile vedete ok finisco ok ragazzi adesso andiamo a decorare la nostra candela non troppo giù e nemmeno troppo su veramente perché a parte allora da noi ci usa che la sera della vigilia si accende la candela no quando inizia la cena e prima di mezzanotte cioè l'ora che in cui nasce il nostro Gesù Bambino la candela non si spegne ok perciò io penso che questo pezzo possa bastare e andiamo ad incollare questa specie di sbrilluccico occhio che qua cecoce cecoce adesso sei un po' freddata niente da fare ci devo mettere la crema sulle mie dita tengo 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 di nero e mettiamo la nostra candela guardate che meraviglia di lavoretto che è venuto fuori sono soddisfattissima più che altro per queste punte messe così guardate questo era un disegno con la scritta in giapponese raga non lo so come ho fatto ho guardato ho riguardato perché mi piaceva troppo il modello troppo troppo bello ok io c'ho tutte queste cosine cominciamo ad incollare sulla base del nostro porto candela che accenderemo la sera della vigilia di natale da nociosa così ma io penso che in tutte le case perché se no come mai si mettono le candele ci sta questo commercio sfrenato di candele per questo motivo la pignetta non ce l'avevo incollata questo non mi piace la pallina si però ho trovato queste decorazioni da teddy un euro queste piccoline così che sono un amore guardate 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 la pignetta c'è un mondo lì dentro c'è un mondo proprio ok ci mettiamo pure sto fiocchetto allora ragazzi ditemi la verità se andate a comprare in un negozio a parte che è così bello non lo trovate fatto a mano un portacandele ad uncinetto quando lo pagate guardate che meraviglia io ne ho fatto un altro prototipo questo sul mio tavolo perché la vigilia la faccio sempre a casa mia poi magari di solito facevo natale e vigilia a casa mia quest'anno invece il natale sono stata invitata meno male così mi risparmio la fatica anche se quando vado poi siccome il mio figlio lo devo portare in ballo fritture e cavoli vari vabbè toglio questa plastica perché proprio mi rovina l'effetto e ci rivediamo fra due secondi guardate penso che sia uno dei lavori che mi è piaciuto di più molto particolare nuovo mi piace mi piace mi piace poi anche perché ve l'ho detto lo metterò sulla tavola della vigilia e allora carissime mi raccomando iscrivetevi al mio canale guardate questi meravigliosi tutorial guardate a parte che quelli di uncinetto stanno avendo un successo strepitoso c'è tantissime centomila centoventimila si vede che lo vedono anche le signore che non abitano in Italia perché 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 noi italiani sappiamo abbinare i colori sappiamo creare delle cose molto particolari perché siamo nati con quel gusto innato del colore degli abbinamenti che saputa bu 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 e allora non siete d'accordo raga guardate i stilisti nostri dai su dai 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 meraviglioso mi raccomando condividete e fatemi la pubblicità ciao carissime un abbraccio e alla prossima ciao 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 ciao